Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche generali per la seconda metà di dicembre. Giustizia! Amici del Sagittario potrebbero esserci dei contratti in vista. La carta della giustizia parla sempre di qualche cosa che viene regolamentato, viene fatto secondo le regole. È anche una carta che porta in equilibrio ed è una carta che parla anche di qualche cosa che potrebbe venire a galla. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo come sempre che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate andare all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se semplicemente voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. Sotto nella descrizione del video, se aprite la tendina, trovate il link ad un altro video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. E trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo... guardate come si è fermata... partiamo con una regina di bastoni e un 6 di pentacoli. Allora, la regina di bastoni può fare riferimento a un'energia femminile che è intorno a voi o magari siete proprio voi, è la vostra energia. Parla comunque di una persona che è nel pieno potere di sé ed è una persona molto abile nella comunicazione direi. Il 6 di pentacoli mi dice che c'è una sorta di equilibrio, lo vediamo anche qui con la carta della giustizia, fa riferimento sia ad un equilibrio da un punto di vista monetario, fisico, pratico, sia da un punto di vista della generosità. Cioè, è una carta che vi dice che bisogna equilibrare l'energia che si dà agli altri con l'energia che si dà a se stessi. Abbiamo anche un 5 di spada al contrario. Il 5 di spada normalmente parla di energie mentali e in questo caso di confusione mentale. È come se qui ci fosse, come vi dicevo all'inizio, qualche cosa da mettere in regola con la carta della giustizia. Abbiamo un cavaliere di coppe al contrario, ragazzi. Ho come l'impressione che qui non si faccia quel famoso passo o qualcuno sia confuso su come fare il passo, su che tipo di passo fare, perché qui si è in una situazione di equilibrio, di calma, diciamo così. Sta di fatto che poi avete il mondo. Il mondo è una carta di compimento, è una carta di completamento, è una carta di riuscita, è una carta anche che ci parla di chiusura, wow, asso di coppe e 5 di bastoni. È una carta che ci parla di chiusura cicli e appunto, avendo poi anche l'asso di coppe dopo, ci parla di inizio di nuovi cicli. Normalmente quando c'è un asso di coppe si parla di un fidanzamento, di un inizio di tipo romantico, ma può anche essere semplicemente un nuovo amore, ok? Un nuovo tipo di passione, un nuovo tipo di... per qualcuno si tratta di trasferirsi in un posto dove c'è più ricchezza di stimoli, perché quando c'è il mondo si parla anche di viaggi, di traslochi proprio lontani, con diversi migliaia di chilometri in mezzo. Andiamo a vedere con i mini tarocchi, carta per carta, cerco di darvi delle informazioni in più. Io intanto vi comunico che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di livello intermedio che inizierà a gennaio del 2023. Ho già pubblicato un video a tal proposito che spiega in dettaglio il programma e le modalità di svolgimento. Trovate comunque il link sotto, sempre nella descrizione di questo video, è tutto scritto lì, oppure anche nelle playlist del canale. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo un 8 di spade e un 7 di spade. Allora, questa regina di bastoni, l'energia, è un po', come dire, io ho detto prima che la regina di bastoni è una persona brava a comunicare, no? È una persona, normalmente, vediamo se qua la fanno vedere, no, normalmente è ritratta con un gatto nero perché è da quel tono di strega, quel tono da strega, di persona che affascina, ammalia proprio con le parole, no? E che per certi versi è anche in grado di portare l'acqua su un mulino. E qui fate attenzione perché c'è un 7 di spade, quindi se fosse una persona esterna a voi potrebbe essere che non ci sia tanta chiarezza mentale, l'8 di spade al contrario mi dice che c'è qualcosa che non si vede. Se invece fosse la vostra energia fate attenzione perché è come se il non avere un'idea chiara di una determinata situazione o relazione vi portasse a fare delle proiezioni con questo 7 di spade. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Abbiamo la carta del mondo nuovamente, che si ripete, avevamo un'energia anche qui. Vediamo un'altra carta. Wow, sono le stesse carte. Ho come l'impressione che qualcuno qui si stia un po' trattenendo. Perché è nell'aria questo nuovo inizio, questo cambiamento a metà dicembre, anche se lo si vede poi più verso la fine del mese, si sta compiendo diciamo alla fine del mese, a metà mese diciamo che c'è un'idea, c'è la necessità. Andiamo a vedere queste 5 di spade. Ok, qui credo che il punto sia fare la comunicazione. Mentre il 5 di spade è al contrario una carta che parla di confusione mentale, l'asso di spade è una carta che parla di tagliare quello che non serve più e normalmente sono con i 6 di spade di fianco le credenze limitanti che si sono acquisite durante l'infanzia, certi tipi di forme pensiero che non sono più utili. Bisogna tagliarle per creare un nuovo ordine mentale. La giustizia anche alla spada, ragazzi, taglia quello che non serve più. Ok, quindi qui si tratta di lasciarsi indietro. Probabilmente delle aspettative, delle proiezioni che facevate o sono state fatte da questa regina di bastoni. Voglio andare a vedere il cavaliere di coppe, vediamo di che offerta si sta parlando. Re di bastoni, regina di bastoni e re di coppe. Può essere che per qualcuno sia una questione molto delicata, può essere un nuovo tipo di contratto, un nuovo ruolo di comando, mi viene da dire. Andiamo avanti, voglio vedere il mondo. Fante di bastoni al contrario, l'imperatrice, il cavaliere di coppe, eccolo qua. Allora, ragazzi, potrebbero essere due genitori o comunque due figure diverse l'una dall'altra, come se ci fosse una sorta di disaccordo, come se ci fosse qualche cosa che alla fine è un po' come qui, no? Come se non tornasse qualche cosa. In effetti un po' di confusione la vediamo qui con il 5 di spade. Di qua sento che qualche cosa in realtà cambia drasticamente l'energia. Allora, i fanti normalmente sono, ricordano, fanno riferimento a quelli che sono i figli. Il mondo fa riferimento ai bambini, l'imperatrice fa riferimento alla gravidanza. Vi ricordo che anche qui avevamo mondo e astro di coppe, perché anche l'astro di coppe fa riferimento ai concepimenti, alle nascite. Quindi se per voi il mettere le cose in regola, insomma, o essere coinvolti in questa calma piatta che si sentiva qui, può riguardare il, o meglio, l'offerta che manca anche da questo cavaliere di coppe, può riguardare il mettere su famiglia. Vi dico che nella seconda parte della lettura le cose cambiano, l'energia cambia. Qui però c'è qualche cosa che non è chiaro, o siete voi che giustamente non vi esponete più di tanto, ok, ma perché sento che avete una sorta di confusione mentale. La rivedo anche un po' qui con il 5 di bastoni, dopo andiamo a vederlo. Adesso guardiamo lassù, sì, se le giro è meglio. Andiamo a vedere lassù di coppe, ok, regina di coppe, re di coppe, re di bastoni, regina di bastoni. Sì, di nuovo, sento che per molti è una nuova idea, un nuovo progetto. Se non fosse il figlio, può essere una nuova casa, può essere la proposta di andare a vivere insieme. Cambia, cambia qualche cosa molto positivamente, ragazzi. Cioè la carta della stella parla di sogni, eh? Sogni che si avverano. La regina di coppe è un'altra carta che a me ricorda molto la madre o la maternità in sé. Se non fosse, magari avete già figlia e non volete più altri figli, è il rapporto che voi avete verso voi stessi, il vostro modo di essere madri di voi stessi, uomini o donne che siate, il vostro modo di venirvi incontro, di parlarvi con amore, di parlarvi con compassione, di vedere il lato positivo anche delle cose. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Comunque ci sono dei nuovi inizi, eh? E per qualcuno vi dirò che potrebbe davvero essere una relazione. perché comunque abbiamo diverse figure. E vi dirò che se già avete qualcuno con il quale magari collaborate o state iniziando o avete iniziato, diciamo così, una relazione più da un punto di vista magari pratico, ecco, nella seconda parte della lettura vediamo che questa cosa va ad un livello molto spirituale. Abbiamo un 5 di denari al contrario e un 4 di spade al contrario. Sento la volontà di voler far andare bene questa cosa. Il 5 di bastoni è una carta di qualcuno che è pronto a lottare per difendere le proprie idee e qui c'è come non mi voglio arrendere, sono in fase di guarigione, non mi voglio arrendere, non voglio cadere in questa situazione di perdita, mi viene da dire. La perdita io la sento un po' qui, sinceramente, e un po' qui. Perché qui, quando si lasciano indietro le credenze limitanti, c'è comunque da fare un piccolo lavoro sul proprio ego, ok? Perché quello che abbiamo creduto fino a quel momento non è più valido, quindi bisogna un attimino con lo scalpello, ok, buttare giù i muri e poi erigere nuovi tipi di confini. Voglio andare a vedere con Osho quello che si vede e quello che non si vede. Vediamo cosa vi dicono in più. Se fosse una stesa di lavoro, ragazzi, vedo contratti, vedo contratti, 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 spostamenti, nuovi inizi, abbondanza, offerte, prosperità. E voi che vi impegnate per non incorrere in eventuali perdite, ok? Quindi vedo che le cose... la giustizia, ci parla anche di giustizia divina, quindi state sereni perché qualche cosa di molto positivo e buono per voi sta arrivando. Va bene, andiamo a vedere... beh, direi che sono un po' troppe, solo due per piacere. Esaurimento, oh wow! Sì, in realtà lo sento, eh. Lo sento un po' qua. Questo esaurimento, perché è un esaurimento di tipo... sia fisico ma anche mentale, ok? Questa carta indica una forte stanchezza. E qua anche, perché probabilmente c'è questa... Quando c'è l'otto di spade è sempre una carta che parla di un autosabotaggio, di un'energia pesante che vi tira giù. E' probabilmente quello a causare l'esaurimento. E poi abbiamo due carte fantastiche, il matto e gli amanti, ok? E' un 6, anche qui abbiamo un 6, e il matto è un arcano numero 0, ok? Che è... adesso in questo mazzo si vede bene in questo. Ecco, viene rappresentato con... con questa corona di alloro, chiamiamola così, che è circolare. Che indica anche qui l'inizio, la fine, scusate, di un ciclo, l'inizio di un ciclo nuovo. E il matto parla di aver fiducia. Fiducia nell'universo, fiducia nella vita. E gli amanti è una carta di equilibrio, di armonia, di amore. Qualcosa mi dice che... è come se ci fosse un nuovo amore anche per voi stessi. Un nuovo modo di essere madri, di essere comprensivi, sia appunto nei confronti di voi stessi, ma anche nei confronti degli altri. Ok, un ultimo oracolo per concludere la lettura. Se volete farmi sapere che vi sto aiutando, insomma, con il mio lavoro, che apprezzate i miei sforzi, potete mettere un like al video, potete iscrivervi, commentare, che a me fa sempre piacere leggere i vostri commenti. Potete condividere. Ogni tipo di supporto è davvero molto importante per me. Ok, allora, ultimo messaggio per gli amici del Sagittario. Wow! È una delle carte più belle, secondo me. Presenza divina. E avete la giustizia, ragazzi. La giustizia divina. È una carta numero 44. Questa è una carta numero 11. Sono due numeri doppi. Andate a cercare i numeri angelici numeri doppi. 44 e 11. E poi abbiamo la forza dell'amore e la creazione. Guardate, ma avete gli amanti, avete il mondo, avete l'imperatrice, avete l'asso di coppe. Cioè, qui qualche cosa arriva a essere gestato, eh. O sì, o sì. Che sia un'idea, che sia una relazione romantica, perché comunque abbiamo l'asso di coppe, che sia un progetto, che sia uno spostamento. Guardate, la vedo molto, molto, molto positiva. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. No, questa ve la metto qui c'è. Cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura, insomma, vi sia stata utile. Io vi auguro un caldissimo Natale. Nel caso non ci vedessimo più, spero che possiate veramente trascorrerlo con le vostre famiglie, in pace, serenità, abbondanza, piena salute. E vi mando un abbraccio forte e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.